oggi noia e barba sapete quei giorni in cui fuori nuvoloso non fa neanche caldo e tutto grigio e uno continua a dormire a rigirarsi oggi è un giorno così e non so veramente cosa fare cosa è arrivato cacao caffè non lo so se riuscite a vedere sta foto non mi interessa sono anche a dieta cioccolato col tapp a 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 ok è arrivato spettacolare guardate che bello che è e la dieta per oggi la cominciamo poi domani va salute salute è è buono fresco quando esce da uno dei uno di quei spillatori è fredda cioè non è cioccolata calda è cioccolata non so se sia cioccolata belga o cosa sia ma è spettacolare comunque ho capito per il resto del fine settimana cercherò cercherò di fare dieta e ciao raccontiamo un'altra volta a ok spettacolare mi è piaciuto veramente tanto sicuramente lo consiglio mi raccomando provatelo fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti ok vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao